Alcenero è un'azienda impegnata nel biologico dal 1978, nasce a Isola del Piano ed è uno dei maggiori leader del mercato del biologico in Italia. Oggi abbiamo un fatturato di circa 80 milioni di euro, di cui un milione e sette è fatto nell'e-commerce. Siamo in un magazzino di 22.000 metri quadrati dove gestiamo la logistica per il nostro gruppo e da ottobre di anno scorso abbiamo cominciato a gestirla anche per conto terzi. Da agosto 2020 abbiamo implementato un nuovo sistema WMS, che è quello di Stesi. Eravamo alla ricerca di un partner, quindi non di un fornitore, ma di qualcuno che ci potesse aiutare nella gestione del nostro magazzino e la scelta è stata come partner Stesi. Stesi è una software house che si occupa dello sviluppo, della realizzazione di software per la logistica e per la produzione. Siamo proprietari di una suite, la stessa suite che ha aiutato al cenero e supporta il cenero dal 2020 nell'espansione del proprio business, business B2B, business B2C e da poco anche l'offerta di servizi di logistica per altre aziende. Focus oggi sull'alimentare, ma soluzioni che si prestano ad essere trasversali rispetto al settore merceologico. Quello su cui abbiamo posto l'accento durante tutta la realizzazione del progetto e anche in questa fiera è che cosa? L'importanza di avere un sistema, l'importanza di digitalizzare quelli che sono i processi, le procedure, le attività a valle di quello su cui ci concentriamo in questa fiera dell'e-commerce food conference perché bene avere il sito più bello del mondo, bene avere il carrello più veloce e più stabile, la ricerca ottimizzata, ma se poi mi arriva a casa 0% di errori e quindi il mio collo è sempre perfetto, non è mai danneggiato e non ha mai articoli diversi, questo è altrettanto importante. Per arrivare a questi numeri, oggi nel 2024, sono indispensabili i sistemi a supporto della gestione della logistica e della gestione della produzione. Grazie. Grazie.